No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quello che è essenziale per evitare la morte di milioni di persone in questi prossimi anni. Si parla di oltre un quinto dell'Italia desentificato in questi prossimi anni. Il consigliere scientifico del governo britannico dice che abbiamo circa due anni per definire il destino dell'umanità. Il consigliere scientifico del governo britannico, Sir David King, due anni per definire il destino dell'umanità. Perché prima mattina lo so, noi stiamo semplicemente resistendo a questa ingiustizia che viene commessa giorno dopo giorno nel mondo. E il nostro governo è nuovo.